Ancora una volta l'ambiente buca poco lo schermo. Basti pensare che negli ultimi 12 mesi, nelle edizioni Prime Time dei sette principali TG nazionali, solo il 9% delle notizie parla di ambiente. Un dato ancora più negativo se paragonato con quello dello scorso anno. L'attenzione al tema è scesa di ben due punti percentuali. E' quanto rileva il rapporto Ecomedia 2018, promosso da Pentapolis Onlus, che propone un monitoraggio annuale dell'informazione sull'ambiente. Il tema è questo, cioè l'ambiente viene ancora troppo spettacolarizzato, poco connesso a questioni produttive, al sistema economico e invece sempre relegato ai disastri naturali, al clima e dunque poco connesso invece alle questioni economiche, alle questioni produttive. E poi questo innesca un meccanismo della stampa più influente, che è poco attenta e poco proattiva a queste tematiche, un meccanismo un po' negativo da parte del decisore pubblico, che come sappiamo si concentra sulle questioni che sono particolarmente invece attente all'opinione pubblica.